In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti, lo avete sentito dai titoli di prima pagina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità le misure che serviranno ad allentare le restrizioni anti-covid dal prossimo primo aprile, giorno dopo che finirà lo stato di emergenza. Dunque dal primo aprile stop a Super Green Pass per stranieri in ristoranti, stop a quarantene date da contatto, stadi al 100%, mentre dal primo maggio termina l'obbligo del Green Pass. Ma facciamo il punto in questo servizio. Il primo maggio superamento dell'obbligo del Green Pass è quanto stabilito dalla riunione del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio in vista della scadenza dello stato di emergenza. Il 31 marzo, quando sarà sciolto il Comitato Tecnico Scientifico, il lavoro del Ministero continuerà con l'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità. Sono i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri e illustrati nel tardo pomeriggio dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Se supera definitivamente il sistema a colori, continueremo il monitoraggio, detto Speranza, ma non sarà connesso alle ordinanze. L'attuale regime sull'obbligo di mascherine, previsto in tutti i luoghi al chiuso, resterà in vigore fino al 30 aprile. Resta l'obbligo di FFP2 in alcuni luoghi a rischio. Sul superamento del Green Pass, afferma Speranza, ci saranno due step. Dal primo aprile i luoghi all'aperto e dal primo maggio i luoghi al chiuso. In modo più particolare resterà vigente il Green Pass base fino al 30 di aprile su trasporti a lunga percorrenza, mense e catering continuativo su base contrattuale, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con detenuti e internati, partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto. Resterà invece vigente il Green Pass rafforzato nei seguenti luoghi sempre fino al 30 di aprile. Servizi di ristorazione svolti al banco, al tavolo, al chiuso di qualsiasi servizio, mentre all'aperto, come dicevo, verranno superati già dal primo di aprile. Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadre e di contatto, centri benessere. Ancora convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste comunque denominate conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili e religiose, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino, attività che abbiano luoghi in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Quindi, come vedete, è una disciplina che con gradualità ci porterà al primo maggio al superamento del Green Pass. Dal primo aprile decade l'obbligo di super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per loro sarà sufficiente il Green Pass base. L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e RSA. La sospensione da lavoro rimarrà solo per queste categorie. Sulla quarta dose non ci sono evidenze scientifiche, ha detto ancora Speranza e intervenuto sul tema della vaccinazione. La capienza degli stati tornerà al 100% dal primo aprile. Decade anche la quarantena da contatto per tutti gli italiani. L'obbligo di isolamento resta solo per i positivi al virus. A scuola dal primo aprile andrà a casa solo chi è positivo, tutti gli altri rimarranno in classe. La DAD resta solo per coloro che hanno contratto l'infezione. Aumento nei positivi al Covid in Sicilia. La conferma arriva dalla Fondazione Gimbe che ha tracciato il bilancio della settimana che va dal 9 al 15 marzo. Intanto nelle ultime 24 ore sono oltre 6 mila i nuovi positivi in Sicilia. Peggiore l'andamento dei casi positivi in Sicilia secondo la Fondazione Gimbe che traccia il bilancio della settimana dal 9 al 15 marzo. È del 25,4% l'aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione e i posti letto in area medica, mentre sono sotto soglia di saturazione quelli in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,3%, a cui aggiungere un ulteriore 2,5% solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 77,9%, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 2%. La popolazione 5,11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 25,8%, a cui aggiungere un ulteriore 4% solo con prima dose. Intanto il tasso di positività scende al 15,3%, ieri era al 17%. I nuovi positivi nelle 24 ore sono 6.230 a fronte di oltre 40.000 tamponi processati. L'isola dunque è al sesto posto in Italia per i contagi. Gli attuali positivi sono oltre 231.000 con un decremento di 4.237 casi. I guariti sono 4.460, mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a oltre 9.000. Sul fronte ospedaliero sono 939 ricoverati, con tre casi in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 65, tre in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le singole province, Palermo 1.512 casi, Catania 966, Messina 2.127, Siragusa 616, Trapani 784, Ragusa 633, Caltanissetta 504, Agrigento 960, Edenna 613. Cambiamo adesso argomento. È arrivato in Ucraina il primo carico di prodotti raccolto dall'associazione catanese L'Angelo di Federico Onlus. Ne seguiranno altri, così come spiega il presidente dell'associazione. Il primo carico di aiuti, ma anche di speranza, voluto dall'associazione L'Angelo di Federico Onlus, è arrivato al confine con l'Ucraina. Nei tir medicinali, dispositivi medico-ospedalieri, cibi a lunga conservazione, innumenti e ogni altra categoria di beni utili. Presto nuovi carichi partiranno alla Sicilia, così come ci dice il presidente dell'associazione. Sono arrivati a Ravarusca con il video già del tragitto statale, ma soprattutto di quello che è lo scarico e la consegna. Non nego l'emozione, non nego veramente la sensazione di gioia provata, nonostante, sì è vero, stiamo combattendo una guerra, sì è vero, non potevamo fare qualcosa contro quello che è la guerra, ma volevamo mandare un messaggio umanitario e di solidarietà. Siamo riusciti ad arrivare al confine polacco-Ucraina, a Ravarusca, dove l'associazione del territorio, nonché il sindaco di Broderi, hanno preso in carico tutto quello che è stata la merce raccolta qui a Catania. Intanto sono circa un migliaio i profughi ucraini già arrivati in Sicilia a fornire la stima, anche se è un dato che cambia di giorno in giorno, è stato il governatore siciliano Nello Musumesci. La regione da tempo lavora al piano per l'accoglienza di chi è in fuga dalla guerra. È già stato costituito un comitato di cui fanno parte i prefetti, rappresentanti dei comuni e delle province, oltre che della regione, con funzioni di coordinamento, ha detto ancora il presidente Musumesci. La regione intanto ha messo in campo nel giro di qualche ora una piattaforma informatica e in non poco più di quattro giorni si sono avute oltre 700 disponibilità di accoglienza formale e informale, ovvero tra strutture riconosciute come attività di prima accoglienza e quelle private come residence, case private e strutture alberghiere, ha dichiarato alla DN Cronos l'assessore Scavone. Su 700 disponibilità in non poco più di quattro giorni ci sono 2.500 posti teorici, conclude Scavone. Dopo un viaggio lungo oltre 2.500 km, il bus partito martedì da Favara per la missione umanitaria è arrivata in Polonia al confine con l'Ucraina. È arrivato nella notte al confine tra Polonia e Ucraina il bus partito dalla Sicilia per la missione umanitaria Favara for Ukraine da un'idea della sedicenne del comune agrigentino Carla Bartoli. La missione prevede la consegna di parte dei beni di prima necessità raccolti in un centro vicino Lublino e nella seconda fase tornare in Sicilia con alcune decine di profughi in fuga, soprattutto donne e bambini, che si stabiliranno a Favara e a Caltanissetta. Nonostante la sua giovanissima età, dopo aver visto in tv ciò che accadeva, non è riuscita a restare indifferente Carla, che attualmente studia a Parigi, ma che ci ha spiegato come abbia deciso di intraprendere questa iniziativa, organizzando una raccolta fondi. Vedendo un servizio in televisione insieme a mia madre ho visto questa bellissima iniziativa che è stata fatta a Nord Italia da un'associazione sportiva che ha inviato un autobus in Ucraina. Quindi mi sono detta possiamo fare anche noi la stessa cosa. Informandomi con l'agenzia di viaggi del mio paese sono venuta a conoscenza del costo, che appunto è di 8.000 euro, e ho pensato subito di attuare questa raccolta fondi. Prima appunto prendendo un barattolo e dicendo adesso chiederò a 8.000 persone un euro, fino a quando poi non ho aperto anche la piattaforma online, ho ricevuto tantissimo appoggio in pochissimi giorni. L'iniziativa di Carla è stata accolta dalla madre Florinda Saieva, che sta supervisionando la missione recandosi fisicamente sul posto. Insieme a lei alcuni volontari e l'ex ciclista professionista Sergi Klimakov, 31enne che ha fatto parte della Nazionale Ucraina, da anni stabilitosi ed aggrigento con la famiglia. Mi sento emozionato, oggi è una giornata importante per noi, per tutti noi, e anche per quelle persone che aspettano già da una settimana. Siamo contenti, iniziamo oggi, strada per il ritorno. Il 31enne ha fatto da tramite tra la famiglia di Carla e le comunità ucraine. Fondamentale il suo supporto, in quanto chi fugge dalla guerra ha anche paura ed è restivo a fidarsi di chiunque. Sono tanti i produttori agricoli delusi, tra questi anche giovanissimi, che hanno scelto di presidiare un piazzale del quartiere Sorda di Modica al polo commerciale per dire basta alla crisi del comparto. La manifestazione domani toccherà altre città, tra cui Vittoria, Gran Michele e Catania e Palazzolo Acreide. Il costo del carburante, le materie prime, su tutto. Quindi noi speriamo in un incontro. Convocazione in prefettura e risposte concrete. Questo quanto hanno chiesto oltre 150 produttori del territorio modicano e di città limitrofe, come Rosolini, Pozzallo e Ispica, alle istituzioni. Lo hanno fatto oggi in un piazzale lungo l'asse polo commerciale di Modica. Liberi dalle sigle sindacali e dalle appartenenze, hanno detto i produttori, diciamo basta alla disattenzione programmatica sul comparto. Domani anche Palazzolo Acreide, Gran Michele, Vittoria, Catania si uniranno alla protesta dei produttori agricoli che da Modica già dal pomeriggio di ieri hanno promosso un movimento di protesta pacifica e spontanea. Due anni fa già avevamo consegnato ai sindacati e alle associazioni le nostre richieste e nei tavoli della regione se ne era discusso, hanno detto. Poi il Covid e altro ha portato a disattendere tutti gli impegni assunti. Ma ora basta, hanno detto gli agricoltori, a raggiungerli il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Il comune di Modica ha già stanziato 500 mila euro per fronteggiare il caro carburante, ha detto Abate che ha consegnato la determina a uno dei produttori. Poi subito una interlocuzione con la prefettura di Ragusa per chiedere una convocazione urgente di un tavolo per affrontare le problematiche che sono nate da un comitato che si dichiara spontaneo e senza sigle. Tanti produttori delusi, tra questi anche giovanissimi, che credono in questo lavoro ma che, come i loro genitori, sono stanchi della mortificazione lavorativa costante. Non riusciamo a prendere più le spese, vediamo i nostri genitori che sono al momento quelli più attivi, che sono disperati. Noi, sinceramente, diplomati e tutto, non sappiamo infatti cosa possiamo andare a fare in agricoltura. Se tutti scappiamo, che cosa risolviamo? Gli abbiamo portato anche le proposte, come risolverli? Gli è piaciuto, dovevano fare il tavolo tecnico, fino ad oggi sono passati due anni e non abbiamo avuto risposte. Poveri cittadini che devono andare a comprare il pane a 5 euro al chilo quasi, ma come si fa? Un tavolo di crisi dei comparto agricolo e zootecnico con lo scopo di ascoltare tutte le istanze e comprendere come agire in Sicilia, nonché ai tavoli istituzionali nazionali. È la richiesta di Nello Di Pasquale, parlamentare del Partito Democratico, che interviene sulla grave situazione di crisi nel quale si trovano ad operare agricoltori e allevatori siciliani. Si tratta di due settori che subiscono una crisi durissima, dice Di Pasquale, che dura ormai da quasi un decennio e che i recenti fatti internazionali hanno acuito con l'incremento dei costi delle materie prime, dell'energia dei carburanti. Il presidente Musumeci sia parte attiva, conclude il parlamentare ebleo, perché l'agricoltura e la zootecnia siciliane sono agonizzanti non da ieri ma da anni e da parte sua non si è visto granché. Adesso la cronaca. C'è un indagato per la morte del 27enne romeno Vlad Petru Kazaciuk, deceduto ieri in un incidente stradale sulla strada provinciale 25, la Ragusa Mare. Intanto è stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia. C'è un indagato per omicidio colposo per atto dovuto a seguito della morte di Vlad Petru Kazaciuk, rumeno di 27 anni, che con il motociclo Yamaha sulla SP25 e sulla Ragusa Mare si è scontrato con il furgone di un'agenzia dell'aranze funebri alla cui guida c'era un ragusano di 39 anni, rimasto illeso. Il corpo di Vlad è stato sbalzato nella corsia opposta. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi e morto durante il trasporto in ospedale. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Stamattina la stradale è tornata sul posto per ulteriori rilievi al fine di stabilire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Sono stati ascoltati anche i testimoni. Tutti gli amici si sono uniti al dolore della famiglia. Vlad Petru Kazaciuk viveva in Marina di Ragusa da quando aveva 12 anni. Una passione sfrenata per le moto, la palestra era apprezzato nel centro sportivo dove lavorava da 4 anni a fianco del titolare Biagio Cannuto che ha promosso una raccolta fondi per aiutare la mamma e la sorella di Vlad Petru per sostenere i costi del funerale e probabilmente anche quelle legali. Il 27enne era un raggio di sole nella vita di chi lo conosceva e lo frequentava. Vlad per me non era un collaboratore ma era un fratello. Dal primo momento abbiamo raggiunto un feeling, abbiamo trovato un feeling dove ci compensavamo nel lavoro e per me era il braccio destro. Sono attivato per cercare di aiutare la famiglia che giustamente, essendo la mamma da sola e giustamente la sorella con altri impegni, per cercare di aiutarli economicamente almeno per sostenere le spese che sono tante di un funerale oggigiorno. Saremo noi in palestra da domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, troverete qualcuno che raccoglierà questi soldi e niente, se poi qualcuno da fuori o qualcuno che tramite Facebook mi voglia contattare per donare qualcosa, gli dirò il modo come fare. La palestra si trova in via Donna Lucata 18 a Marina di Ragusa e per la donazione è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a partire da domani. Parliamo adesso di politica, è arrivato anche a Catania Cateno De Luca per i weekend politici in giro per la regione, un tour elettorale per presentare Sicilia Vera e parlare della sua candidatura. Nessuna alleanza con la banda Bassotti, ossia l'attuale compagine politica, ma si possono valutare alleanze con i partiti più piccoli. Lo ha detto Cateno De Luca, candidato alla presidenza della regione siciliana questa mattina a Catania, dove è partito il tour elettorale di Sicilia Vera, un tour che toccherà le province siciliane per approdare a Palermo. Non ci saranno, ha detto De Luca, vecchi nomi nelle proprie liste. La prima lista cui stiamo noi lavorando per ora è quella di Sicilia Vera. La seconda lista sarà quella di De Luca, sindaco di Sicilia, che ospiterà quei 4-5 movimenti a carattere regionale che oggi, alla luce del sole, hanno deciso di scendere in campo. Non ci saranno deputati uscenti. Ciò che è certo, ha detto De Luca, è che si deve eliminare questa cappa politica che attanaia la Sicilia ed è per questo che non si cederà a inviti come quelli che sono già arrivati. Non vogliamo avere a che fare con la banda Bassotti. I nostri alliati è il popolo siciliano. Io non c'entro niente col centro-destra, perché ho le loro faide. È un problema loro. Quando qualcuno mi ha voluto attribuire questa responsabilità, che io ero il becchino di Musumeci, ho detto, beh, lui intanto è il becchino con le sue mani. Ma il problema non è quello, il problema è che c'è una faide interna, perché ormai è chiaro che Musumeci li porterà definitivamente a sbattere. Siccome c'è una cappa politica che comanda in Sicilia da oltre 20 anni, sono sempre gli stessi. Hanno proposto a me ovviamente anche di diventare la foglia di fico, ovviamente ho detto no. E quindi noi andiamo avanti fino in fondo, perché il problema non è semplicemente chi farà il Presidente della Regione, ma il problema è con chi farà il Presidente della Regione. Ci siamo rifiutati di partecipare a riunioni, anche perché l'ultimo che ho avuto con Miciche sono stato chiaro. Mi è stato proposto di fare Vicepresidente della Regione e di avere la delega al bilancio e alla programmazione. Ecco perché Armao è incazzato con me, perché ormai tanto rimarrà disoccupato, nel senso si occuparà delle sue parcelle milionarie e si toglierà dalle balle. De Luca annuncia anche i tre primi punti del suo programma. Non si investe più in Sicilia perché il costo di questa burocrazia mafiosa è un costo che per qualunque azienda è incalcolabile. Quindi primo obiettivo, colpi di accetta, semplificare e decentrare. Secondo obiettivo, in contemporanea risanare, non possiamo continuare a spendere più di quanto incassiamo. Terzo elemento, riformare il sistema delle autonomie locali. Intanto il centrodestra in Sicilia ancora è in attesa di un candidato alla Presidenza della Regione, così come per le amministrative a Palermo e Messina. Decisivo sarà il vertice tra i leader della coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Il centrodestra è in attesa del vertice che si dovrebbe tenere tra oggi e domani con i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per fare quadrato sulle candidature per la Presidenza della Regione siciliana e per le amministrative a Palermo e Messina. Al momento una cosa è certa, la spaccatura della coalizione di centrodestra almeno per le amministrative di Palermo. Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè in un primo momento aveva sostenuto il nome di Roberto Lagalla, candidato a sindaco ed esponente dell'Udc. Ma lo scorso fine settimana avrebbe lanciato la candidatura a sindaco di Francesco Cascio che va ad aggiungersi al candidato proposto da Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, e a quello proposto dalla Lega, Francesco Scoma. Ma la situazione non cambia per le elezioni regionali, anche qui al momento nessuna candidatura ufficiale. Solo l'attuale presidente Nello Musumeci ha confermato la sua ricandidatura alla Presidenza affermando che solo un centrodestra unito potrà vincere le prossime elezioni a Palermo, a Messina e alla Regione. Musumeci non ha intenzione di fare un passo indietro sulla sua candidatura. Il presidente uscente c'è, ha detto, e dunque la coalizione deve spiegarmi perché non deve essere candidato e le motivazioni di un eventuale no alla mia candidatura. La candidatura di Musumeci al momento sarebbe caldeggiata da Berlusconi e da Giorgia Meloni, mentre Miccichè si dice scettico. Matteo Salvini invece punterebbe sulla candidatura del suo coordinatore in Sicilia, Nino Minardo. Intanto Lorenzo Cesa, Udc, chiede alle forze politiche della coalizione del centrodestra l'impegno di trovare una condivisione, una sintesi e di correre uniti alle prossime consultazioni anche in vista delle politiche del 2023. L'informazione continua subito dopo la pubblicità. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania un 35enne è stato arrestato per aver rapinato, travestito da donna, insieme a due complici. Una gioielleria del Viale Mario Rapisardi il 9 febbraio scorso, aggredendo i commessi e il titolare del negozio e fuggendo con un bottino di circa 18 mila euro. Si era introdotto, travestito da donna, insieme a un complice che gli era accanto e a un altro che attendeva fuori a bordo di uno scooter in una gioielleria di Viale Mario Rapisardi a Catania con l'intento di rapinarla, malmenando il titolare e i commessi. Un 35enne catanese che è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso dai carabinieri della stazione di Catania Nesima, su delega della procura etnea. I fatti risalgono allo scorso 9 febbraio, quando il 35enne, intorno alle 16.30, insieme a un complice, si è introdotto fingendosi un cliente. I due malviventi hanno prima aggredito la commessa che gli aveva chiesto di esibire il Green Pass e poi il collega, utilizzando anche un taser, continuando, nonostante i due commessi, li supplicassero di smettere di prendere tutto ciò che volevano senza far male a nessuno. Fino al tempestivo intervento del titolare, che è sceso dal laboratorio sovrastante, è riuscito prima a mettere al sicuro la cliente con la figlia, cercando di opporsi ai malviventi, che con una spranga di ferro lo hanno colpito, procurandogli una frattura al braccio destro, giudica da guaribile in 30 giorni. I rapinatori, impadroniti, sin di un involucro contenente l'equivalente di quasi 18.000 euro impreziosi, si sono dati alla fuga, prendendo in ostaggio il commesso afferrato per il collo rilasciato solo all'esterno della gioielleria, fuggendo a bordo di uno scooter condotto da un terzo complice che li attendeva fuori. Di fondamentale importanza per le indagini, i numerosi filmati estrapolati dall'impianto di video sorveglianza sia della gioielleria che di negozi adiecenti, che hanno portato gli investigatori a risalire al 35enne. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, mentre i due complici sono ancora ricercati. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa per tentata estorsione anche dal metodo mafioso. Le indagini della DDA ha consentito di riscontrare la denuncia presentata da un imprenditore minacciato con un modus agenti tipico delle consorterie mafiose in caso di mancato pagamento di una somma di denaro indebitamente pretesa. Concorso in tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso per tre persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno eseguito l'ordinanza emessa dal GIP della locale procura. L'indagine è coordinata dalla DDA ha consentito di riscontrare la denuncia presentata da un imprenditore minacciato con un modus agenti tipico delle consorterie mafiose in caso di mancato pagamento di una somma di denaro indebitamente pretesa. La vittima ha riferito che durante i lavori di ristrutturazione per l'apertura di un esercizio commerciale insieme ad un giovane socio si era rivolta ad una ditta specializzata nel rilascio delle certificazioni HCCP di proprietà di un 45enne che lamentava di non aver ricevuto per tempo il pagamento delle prestazioni, convocando la persona offesa per un incontro in piazza Borgo, presentandosi con il suocero di 69 anni e con un sessantenne già condannato per aver fatto parte del clan Santa Paola Ercolano, gruppo di Picanello. Nelle circostanze tre avrebbero minacciato la vittima di morte e di dar fuoco al suo locale se non avesse provveduto immediatamente al compenso. Gli arrestati sono stati associati presso locale casa circondariale. Le ipotesi accusatorie allo Stato condivise dal GIP dovranno trovare conferma in esito al procedimento penale che verrà instaurato nel contraddittorio tra le parti, così come previsto dalla legge. L'astronauta siciliano Luca Parmitano ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile della regione siciliana. Parmitano è stato ricevuto dal governatore dell'isola a Palazzo d'Orlean. L'astronauta originario di Paternò è il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale e il primo italiano ad eseguire una passeggiata spaziale intorno alla Terra. Il giusto riconoscimento a un'eccellenza siciliana che con tenacia, passione e competenza ha conquistato lo spazio e reso la missione spaziale una vincente avventura, popolare come mai prima. Questa Terra ha bisogno di gente e di valore per riscattarsi. Con questa motivazione è stata consegnata la medaglia d'oro al valore civile a Luca Parmitano, astronauta siciliano dell'Agenzia Spaziale Europea. È stato il presidente della regione siciliana nell'Omusumece a consegnare il prestigioso riconoscimento all'austronauta originario di Paternò, ospite d'eccellenza stamani a Palazzo d'Orlean. Parmitano ha anche ricevuto la laurea magistrale onoris causa in Economia e Management presso la sede palermitana dell'Università L'Umsa e del primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, primo italiano a eseguire una passeggiata spaziale intorno alla Terra. Nel luglio del 2019, alla vigilia della missione Beyond partita dal Kazakistan, il presidente Musumece aveva fatto avere al colonnello dell'aureonautica un gagliardetto della regione siciliana, poi esposto sulla plancia di comando della Stazione Spaziale Internazionale. Oggi Parmitano, ringraziando emozionato per il prestigioso riconoscimento, ha voluto contraccambiare e ha consegnato al presidente Musumece il patch che per mesi è stato attaccato sulla propria tuta spaziale. Consegnando il patch, Parmitano ha dichiarato ha volato con me fin dal decollo nel corso della mia prima missione spaziale e ha percorso svariati milioni di chilometri intorno alla Terra. Da qualche giorno nessuno si siede più nelle panchine di Piazza Bonadies. Il motivo? La paura che qualche ramo possa cadere dagli alberi che da tempo non vengono potati e che anche i fili dei lampioni della luce possano cedere. Tra l'altro la sera la Piazza Catania è al buio perché le chiome degli alberi coprono i lampioni. Chiedono che vengano potati immediatamente gli alberi e che vengono sistemati i fili della luce perché potrebbe succedere qualcosa di irreparabile. Siamo in Piazza Bonadies a Catania, al confine tra Terzo e Quarto Municipio e queste sono le richieste che giungono dai cittadini. Perché le persone non si sedono più nelle panchine, hanno paura che un ramo possa cadere addosso e hanno anche paura la sera perché gli alberi coprono i lampioni e la piazza resta al buio. Gli alberi quando sono secchi, secchi, cascano per terra e si vanno nel mezzo le persone che può capitare qualche ramo che ci sbattino dalla testa come è successo diverse volte. Volantini l'ho messo io perché per portare gli alberi, perché i fili entrano dentro gli alberi e è pericolosi. Davanti alla chiesa c'è i fili che scendono, scendono che si vedono, si possono anche guardare che si devono sistemare. Voi avete paura anche a sedervi sulle panchine? Sì, abbiamo paura qua, la sera siamo a buio. Ci sono delle persone anziane che prendono l'autobusso. Si lamentano anche i commercianti, così come ci dice questo farmacista, la cui attività è completamente nascosta, proprio dagli alberi, che sono pericolosi anche per le radici che hanno deformato le mattonelle della stessa piazza. La farmacia con questi alberi non si riesce a vedere, perciò le persone non sanno neanche che c'è la farmacia, ma oltre questo che è un problema per la comunità non sapendo dove sono le farmacie, il problema è che gli alberi sono intanto pericolosi perché se le vede le radici stanno uscendo dal terreno, poi gli alberi entrano dentro la farmacia, abbiamo più volte fatto segnalazioni di questo tipo e per giunta le persone possono anche cadere, inciampare, perciò è una situazione veramente drammatica. Oltretutto come viene il buio non si vede niente e diventa anche pericoloso lavorare in una situazione del genere. Pronto a partire il fermo biologico della pesca per il 2022 è stato firmato il decreto, sarà infatti possibile arrestare le attività di pesca per un mese consecutivo nel periodo che va dal 21 marzo al 31 dicembre. E con questa notizia è tutto, il Tg termina qui, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Video Mediterraneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.